Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per perdita di carico verso il sud tra V1-11 e Firenze in Pruneta. In A11 codi attratti per traffico tra Pistoia e il Bivio Colla 1 per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Tutto in direzione Firenze. E arrivano in Fibili rallentamenti per gli spostamenti mattutini verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Il traffico urbano di Firenze, prudenza per probabile allagamento segnalato in Viale Guidoni. Segnalami inoltre tre lavori al via in settimana, quelli di asfaltatura in via Santa Maria Marignolle. Moversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Per ora è tutto, buon viaggio.